Una partita sporca, vinta col cuore più che con il cervello, come una vera gara di play-off. L'Orlandina Basket si aggiudica a gara 1 contro il Basket School Messina al termine di 40 minuti intensi e combattuti, in una infodrive arena calorosa come ebbe i tempi. Il punteggio finale recita 68-63, ma la partita si è decisa soltanto negli attimi conclusivi dell'incontro. Un derby vietato ai deboli di cuore, specialmente nel finale, che ha visto errori da ambo le parti, con i biancoazzurri imprecisi dalla lunetta e i messinesi che sono andati vicini a fare l'impresa. Assente Iasaitis per un problema fisico, ma dovrebbe rientrare per gara 2, l'Orlandina inizia a contratta, andando sotto nel primo quarto 14-18 con un laconico 0-7 da tre punti. Il Basket School di Pippo Sidoti trova il massimo vantaggio sul più 8, poi la infodrive si desta dal torpore e firma un parziale di 10-0 che vale il sorpasso al quindicesimo. Di Dio riporta avanti i suoi, ma due triple di Gatti e un canestro e fallo di Moltrasio portano i locali in vantaggio all'intervallo lungo, 38-34. Si riparte e Messina recupera e sorpassa con un parziale di 2-10 firmato da Di Dio e Tartaglia. Gatti ritrova la via del canestro per i biancoazzurri, mentre i falli tecnici fischiati a Di Dio e Busco consentono comunque agli ospiti di essere avanti, sul 45-46 al trentesimo. Ultima frazione con Messina che arriva anche al più 5-6 minuti dalla fine. Da qui in poi però sale in cattedra all'Orlandina, con le triple di Palermo e Moltrasio che valgono in sorpasso per il 59-58 a due minuti dalla fine. Nell'ultimo minuto succede di tutto, 0-4 dalla lunetta di Favali e Palermo. Il Basket School rimane in corsa per il 61 pari, ma viene piegata poi dai liberi di Gatti negli ultimi secondi, che consegnano l'1-0 all'Orlandina. Domenica gara 2 a Messina. L'eventuale bella potrebbe essere mercoledì a Capodorlando.